E così della famiglia conoscerai solo la vecchia cameriera e i parenti di mio padre, che non conosco neanch'io. Vedi le balze? Ecco, siamo arrivati. Guarda, quella è Porta San Francesco. Volterra. Vedi laggiù Cecina, il mare? Guarda. Le mura etrusche. Guarda. Guarda. Grazie a tutti 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 That's very kind of you Ed, see what you can do All right My engine's stalled And I can't get it started What are we aiming for? Three minutes? Three minutes flat All right 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 All right